Il Rotary Club La Godorta ha voluto promuovere questa iniziativa per aiutare Mamre, l'associazione che è a Borgomanero, non solo a Borgomanero, si occupa delle donne vittime di violenza e per reinserirle. Ma intanto la prima cosa, ma l'idea di questi cuoricini, di questo amore da vendere insomma attraverso i ristoranti, insomma in tanti posti, di chi è? Un uomo o di una donna? Il progetto è nato su idea delle donne del club, delle mogli dei soci e delle socie. che una sera trovandosi, parlando appunto di questo argomento della violenza di genere, della violenza sulle donne, che è sempre d'attualità, non solo quindi il giorno della festa della donna, ma tutti i giorni dell'anno, hanno pensato di proporre al club un progetto che poi è stato realizzato, come dicevi appunto, con le scatole dell'amore, quindi quello di trovare uno strumento, un veicolo per comunicare amore e raccogliere dei fondi che poi vengano donati all'associazione Mamre Onlus a sostegno appunto delle donne che sono vittime di violenza, domestica o non domestica, fisica o psicologica, qualunque sia. Quante scatolette di questa strana medicina, bella medicina avete fatto e dove si possono trovare? Allora, le scatolette al momento ne abbiamo fatto 30 raccoglitori, espositori scusate, ciascun espositore contenente 39-36 scatolette e ciascuna scatoletta contenente 4 cioccolatini a forma di cuoricino. Si possono trovare, sono stati distribuiti nei vari esercizi commerciali della zona, quindi da Omegna a Borgomanero, a Rona, anche a Novara. Addirittura 10 espositori mi sono stati ordinati in una farmacia di Rovereto, pensate voi. L'iniziativa è partita oggi in occasione della festa della donna, continuerà perché non si esaurirà con la festa della donna. Mamre da oltre 26 anni, con le case d'accoglienza, rappresenta quello che tutte le nostre comunità riescono ad esprimere. Perché Mamre esiste proprio grazie alla collaborazione non soltanto delle comunità religiose, ma delle comunità civili. E la dimostrazione è che se da soli non riusciamo a dare una risposta ad una mamma che si presenta perché ha subito violenza, invece tutti insieme, grazie alle varie case d'accoglienza, riusciamo invece ad accogliere e a rinserire poi sul territorio attraverso un lavoro, attraverso poi un alloggio, queste donne, che sono tante quelle che sono riuscite ad uscire da queste sparate di violenza, da questo tunnel buio profondo, e a ritrovare invece la luce e la gioia di poter vivere, la responsabilità di ritrovarsi mamma da sola con i propri figli. E quindi un grazie davvero di cuore a Rotary Club di Orta per questa bellissima iniziativa.